Musica Buongiorno e ben ritrovati a tutta salute, buongiorno Michele Buongiorno, buongiorno Pierluigi, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Esistono le uova arricchite e Nicola Sassano è andato un po' ad investigare per noi In questa produzione di uova che sembrano più potenti Vediamo il filmato Mia madre aveva dei problemi di colesterolo alto Quindi a un certo punto per intuizione, visto che si lamentava che non poteva più mangiare uova Allora ho detto ma se alle galline dell'allevamento che vogliamo fare Gli dessimo la canapa o il vino magari vengono fuori con un contenuto di colesterolo più basso Anche loro e te le puoi rimangiare Questo è un uovo di gallina deposto da galline che sono state alimentate con l'aggiunta di semi di canapa Alla normale alimentazione Abbiamo fatto una sperimentazione qualche anno fa I risultati che abbiamo ottenuto su queste uova sono state che l'aggiunta dei semi di canapa all'alimentazione delle galline Hanno prodotto un valore aggiunto a queste uova perché hanno un altro contenuto di omega 3 e omega 6 Che si sa essere benefici per l'uomo Sono più leggere, più digeribili, meno pesanti Io ne mangio almeno 6 a settimana di queste uova, sì sicuramente Ormai io la differenza non la sento più tanto perché sono anni che mangio solo queste Quindi per me sono buone e sono quelle che mangio